Allora, salve a tutti e bentornati a un nuovo video. Allora, faccio un video proprio veloce, in modo da poterlo uploadare in velocità e di conseguenza per domani, dopo domani sarete pronti. Domani, siccome sono riuscito, dopo varie peripezie, che so, sembra una cazzata, ma in realtà non lo è, sono riuscito a trovare un emulatore che funzionasse sul mio PC con Windows 7 per i giochi a PlayStation 1. So che c'è EPSX, però a me continua a dare errori e sono riuscito a trovare un alternativo che mi funziona. Perciò domani, probabilmente, vedrò se riesco già nella serata ad uploadarli, perché domani sarà, farò delle partite. E' il primo gioco che probabilmente farò dall'inizio alla fine, farò dei video. Ovviamente farò un video unico, lo sframmenterò, anzi probabilmente saranno due i video, perché farò metà domani e metà sabato. Sframmenterò i video di 15 minuti in 15 minuti, in modo da poterli uploadare su YouTube. E il mio scopo serve a quello di fare dei giochi completi, cioè il gameplay completo del gioco. Di alcuni giochi della PlayStation 1, quelli che mi hanno appassionato di più, quelli che mi ricordo di più. Siccome sono un po' in argomento, perché ho preso recentemente Silent Hill e l'HD Collection per Xbox, che comprando il secondo e il terzo capitolo, ho detto mi manca il primo. Siccome anni che fu, ci giocai al primo e mi piacque molto, ho deciso di cominciare praticamente Silent Hill 1. Perciò domani sera comincio alle 7 a giocare, perciò probabilmente i video comincerò a uploadarli verso le 11, perciò probabilmente li vedrete sabato direttamente e domenica vedrete quelli di sabato. Vedrò anche in base a che qualità uploadarli, perché se dovrò uploadarli in 7 eventi, essendo che dureranno 15 minuti l'uno, ci vorranno un sacco di ore, perciò probabilmente riuscirò a uploadarli 5 o 6 al giorno, e perciò mi ci vorrà quasi 2 settimane. Però intanto avrete una buona mezz'oretta di gameplay ogni giorno da potervi guardare minimo. Adesso vediamo, comunque perché probabilmente in realtà le uploaderò a 4,80, in modo che così in un'oretta riesco a uploadarne uno e tan 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 tan, vado via spedito, ecco. Perciò non perdetevi i miei nuovi video che farò questa settimana. Per tutti gli amanti di Silent Hill, ovviamente parlo, come ho detto, Silent Hill, le origini, cioè il primo capitolo, che per chi non avesse mai giocato, chi non avesse avuto le possibilità, vi assicuro che ne vale la pena, perché senza quello perdete molto, ma molto, soprattutto del film, non il secondo ma il primo, e perdete molto anche degli altri giochi, se siete magari appassionati, se avete il quarto, il quinto, mi pare che siano arrivati anche al sesso, che è Don Purr, Homecoming, The Room, Silent Hill 3, Silent Hill 2, se non avete giocato al primo, perdete molto, molto delle storie che ci giri intorno, perciò vi invito nuovamente a seguirmi per la prossima settimana, e ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie.